Presentiamo il Lotus Grill, il primo barbecue al mondo a carbonella che non fa fumo. Con il Lotus Grill, la tua grigliata è pronta in soli 3 minuti. Veloce, facile e sicuro. Con la ventola incorporata, regoli la temperatura della cottura. Grazie alla struttura interna, la carbonella respira aria fresca, creando l'effetto soffietto. Riempi il contenitore con la carbonella. Versa il gel combustibile sul piatto per l'accensione. Accendi la ventola e poi il gel. Inserisci il contenitore della carbonella sul piatto e infine chiudi la griglia. Il nuovo modo di assaporare carne, pesce e verdure. Il brevetto Lotus Grill, non permette ai liquidi di andare a contatto con la carbonella, rendendo la grigliata più sana e gustosa. Servi a tavola in tutta sicurezza. Il Lotus Grill è dotato di custodia per trasportarlo dove vuoi. In esclusiva per Pescara da Gagliardi, Corso Vittorio Emanuele 370. Disponibile in vari colori e in due formati. Lotus Grill, e Lotus Grill XL.